Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Perdonate la voce, ma sono parecchio raffreddata. Comunque, ci tenevo a parlarvi di un libro che ho finito di leggere di recente, ovvero ieri sera, e sto parlando di Lolita, di Vladimir Nabokov. Lo so, probabilmente si pronuncia Vladimir Nabokov, ma visto che non ho studiato russo e la mia imitazione della pronuncia russa è, a dir poco, imbarazzante, ci teniamo Vladimir Nabokov. Che dite? Prima di iniziare, se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi cliccando il pulsante rosso qui sotto. Grazie in anticipo. Lolita è un romanzo che nasce a metà degli anni 50 del 900, pubblicato nel 1955 in Francia. Quattro anni dopo, nel 1959, abbiamo la prima edizione italiana. Un romanzo rifiutato da quattro editori americani, per neanche dirlo, per la tematica scabrosa. Questo libro, appunto, parla, per chi non lo sapesse, della relazione amorosa tra un uomo di 37 anni e una bambina di 9, 10, 11 anni. Questi editori che hanno rifiutato il manoscritto di Nabokov non sono riusciti ad andare oltre la tematica scabrosa e delicata. Non sono riusciti ad andare oltre alla provocazione di Nabokov, come anche molti lettori. Ancora oggi non riescono a guardare. E ciò significa che Nabokov è un vero e sincero provocatore. Non è una tematica facile da affrontare, ma Nabokov non scende mai nei dettagli, come afferma nell'ultimo capitolo della prima parte di questo romanzo. Non gli interessa parlare di sesso, non gli interessa descrivere l'atto sessuale. Lo lascia immaginare e sappiamo quanto l'immaginazione è più forte di una semplice descrizione, anche se accurata. È interessato invece allo scavo psicologico dei protagonisti e al motivo per cui quest'uomo, Humbert Humbert, arrivato dall'Europa, è perdutamente preda delle ninfette. Le ninfette sono delle bambine di età pre-adolescenziale, tra i 9 e gli 11-12 anni, che dimostrano fisicamente più anni della loro età e consapevoli, non si sa fino a che punto, della loro sessualità. Infatti l'età che vuole rappresentare Nabokov è delicata tanto quanto la tematica che si intreccia a quella dell'incesto, perché Humbert Humbert incontra Lolita, la sua ninfetta, quando sbarca in America e viene ospitato da Charlotte Hayes, una donna che appunto ha questa bambina, Lolita, e dopo essersi unito in matrimonio a questa donna, diventa a tutti gli effetti il suo padrino. Quindi la tematica scavrosa è legata a doppio filo, da una parte abbiamo il tema della pedofilia, e dall'altro quello dell'incesto, come sottolinea più volte Lolita. Il romanzo è diviso in due parti, con l'aggiunta di una postfazione, un libro intitolato Lolita, postfazione di Vladimir Nabokov stesso. La prima parte ha un crescendo della sfera sessuale, che come vi dicevo non viene mai approfondita, se non dall'atto psicologico. Il sesso non è mai indagato nel suo atto, nel suo atto carnale, ecco, ma nella sua psicologia. La seconda parte invece si trasforma in una specie di romanzo on the road, con un crescendo di tensione fino ad arrivare al plot twist finale. Il tema dell'amore spesso viene legato a quello della distruzione. Eros e Thanatos viaggiano a braccetto nella letteratura. Freud afferma più e più volte, nel corso dei suoi studi, nel corso delle sue ricerche, che è stata la letteratura a scoprire prima della psicanalisi l'incoscio. E invece, invece, Nabokov, davvero provocatore, davvero rivoluzionario delle lettere, quale è? Cimmiotta più e più volte Freud in modo più o meno evidente. Un episodio che rende evidente il suo prendersi gioco di Freud e della teoria della psicanalisi è durante, nella seconda parte, senza farvi alcun tipo di anticipazione, nella seconda parte, in un dialogo tra Umbert Umbert e la maestra di Lolita. Attraverso le parole di Umbert, in risposta alla professoressa, in risposta all'insegnante di Lolita, emerge chiaramente l'intenzione di Nabokov, ovvero quella, come vi dicevo all'inizio del video, di esplorare la psicologia. E la profondità dello scavo psicologico deriva dalla letteratura russa. Se avete letto un romanzo di letteratura russa, capirete cosa intendo. La letteratura russa, penso ad esempio a Tal Stoy, anche qui, perdonate la pronuncia, scava dentro i personaggi, dentro al lettore, con una veemenza e con una brutalità che ti rende impotente. E anche questo romanzo riesce a rievocare quella sensazione, riprendendo però la fluidità dell'American playing style arricchito dal lessico della cultura pop americana degli anni 50. Ricordo che negli anni 50 superava quello europeo e faceva ciao ciao con la manina, creando delle leggende sia sul fronte degli attori sia sul fronte della regia. E la simmetria, il contrasto, come bello leggere di asimmetrie create bene, e la simmetria mondo occidentale, cultura e giovane cultura americana è evidente dai simboli che portano con sé i due protagonisti. Humbert Humbert, professore di letteratura francese, sbarca sulle coste americane nel New England, incontra il prodotto fresco, giovane, della cultura, della cultura americana, pop, che si incarna in Lolita. I simboli però non riguardano solo i personaggi ed è qui che sta la genialità, la sottigliezza dell'autore, ma anzi ogni elemento della narrazione, anche quello che sembra posto solo per arricchire, impreziogire la frase rendendola elegante, composta, raffinata, non è messo a caso. Ogni elemento anticipa un avvenimento futuro. Vi invito a notare ad esempio La comparsa dei cani. Ce ne sono tantissimi altri riferiti al mondo animale e al mondo soprattutto degli insetti di cui l'autore stesso era appassionato, come era appassionato anche di scacchi. È un libro che mi ha lasciato senza fiato per l'eleganza, per la sottigliezza di ingegno, ed è un libro secondo me non per tutti. Non perché non sia di facile comprensione, sicuramente penso che a una prima lettura non si possano notare tutti questi piccoli dettagli, tutti questi piccoli grandi simboli che rappresentano la cornice della narrazione e la mettono anzi in evidenza, non la abbelliscono soltanto. È un libro non tanto per lettori forti, piuttosto per lettori che sanno accogliere con intelligenza le provocazioni e andare oltre per scoprire il significato nascosto delle narrazioni che si intrecciano in questo romanzo. Altrimenti si diventa come quei quattro editori americani. La tematica è delicata e Nabokov è un incantatore. Lui ha anche scritto due testi editi ad elfi sulla letteratura e anche in questo romanzo, in quello che viene considerato il suo capolavoro, secondo me non a caso, anche se non ho letto gli altri, emerge la sua consapevolezza. I rimandi all'arte, alla letteratura, esempio soprattutto alla letteratura francese, da cui deriva la compostezza e l'eleganza della sua prosa, non sono mai autoreferenziali, non sono mai autocelebrativi. Fanno parte di un discorso, ora vengono usati come esempio, ora come parte integrante della narrazione. Non ha bisogno di mostrare nulla Nabokov, è consapevole della sua sensibilità, del suo talento e gioca con le parole, si diverte a giocare con le parole, mischiando ora parole latine a quelle francesi, a quelle americane. Tant'è vero che Lolita in due occasioni, se non di più, viene chiamata venus, venere. Il rimando all'arte è evidentissimo nella seconda parte, in particolare nel plot twist finale. È il motivo per cui si arriva a quel finale degno di un thriller ad alta tensione, con lo scontro di Umbert Umbert e un altro personaggio, uno scrittore e un altro uomo che ha a che fare con il mondo dell'arte, ma cui non posso dirvi assolutamente nulla. È un romanzo che non si esaurisce nel proprio tempo, perché se molti lettori si rifiutano ancora di leggerlo, è perché una certa soggezione incute ancora. E io vi dico di lasciarvi incantare dalle parole di Nabokov. È una lettura che più volte mi ha lasciata impotente, ma non quell'impotenza che provi davanti a un'ingiustizia, ma quell'impotenza ancora più forte che provi davanti alla realtà dei fatti. E quei simboli che Nabokov utilizza con intelligenza rafforzano il concetto di realtà. Non sono delle mere astrazioni. Quindi io vi dico di lasciarvi incantare, di abbattere il, come diceva già Gadamer in Verità e Metodo degli anni 60, a cinque anni dall'uscita di Lolita. Vi invito anche io ad abbattere il pregiudizio. In quegli anni la critica si faceva più vicina al lettore, o comunque si rendeva conto della presenza del lettore. E Nabokov in questo libro continua a interpellarci, chiamandoci ora signore e signori o signori della giuria. Siamo quasi noi i giudici dell'atteggiamento, del comportamento di Umberth Umberth. Però, però, bisogna giudicare solo alla fine. Non tanto il comportamento di Umberth, ma il romanzo. Perché il comportamento di Umberth è riprovevole e non c'è neanche bisogno di dirlo. Ma quando si identifica con l'intenzione del romanzo, beh, il giudizio si fa un po' più articolato. Io spero di avervi incuriosito. Se l'avete già letto, fatemi sapere cosa ne pensate. E niente, vi aspetto, come sempre, giù nei commenti per parlare con voi. E ci vediamo alla prossima. Ciao!